Pozzetto con acqua! Te lo sapevi bastardo! Te lo sapevi! Fabio! Ambiente grande! Ambiente grande! Così non lo sapevo? Ma dove? Ma c'è andato Zairo? No, Zairo sta tirando avanti Sassu! Stiamo facendo una divertita a Facebook! Ma perché prende? Sono attaccato il cavo! Comunque ragazzi siamo a Pandora tra Draghi Volanti e Goffredo! La grotta veramente promettente! Abbiamo lavorato tutt'oggi! Se vieni giù a guardare Zairo qui... Passate! Arrivo! Ragazzi vi sapremo dire! Non si sta! 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 Tira un'aria bestiale! Fredda! Glaciale direi! Qui è andato avanti Zairo un po' E ha tirato qualche sasso Sembra che ci sia un ambiente più largo Bello! E fa un saltinino e cade in una forza l'acqua Il sasso E vieni giù di Copa In santa 4 E sui sistemi E niente! Chessire un'aria... Ero! 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 Lo! Ero! Un'aria! che numero di scarpe forti infatti è lì 40 vedi guarda eh però è spezzata la metà 40 e no 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 cazzo qua faccio la fine di Alfredino vieni fuori vieni fuori vieni fuori è liscio e stretto qua di qua ma hai un cordino te lo leo trolaccio? no mi lasciamo andare giù io faccio la fine di Alfredino e lo leo più fuori qua grazie a tutti